Spesso all'interno dei miei video, tra le mie fonti di guadagno, vi ho parlato di peer-to-peer lending, senza però mai spiegare nel dettaglio cosa sia questa metodologia di investimento. Proviamo allora a vedere in questo breve video di cosa si tratta. Il peer-to-peer lending è una tipologia di prestito che avviene tra privati senza l'intermediazione di un istituto bancario, ma generalmente attraverso una piattaforma online che si occupa di fare da tramite tra chi richiede il prestito e chi lo finanzia. Con l'investimento nel peer-to-peer lending, ciò che andiamo a fare nel concreto è prestare i nostri soldi a persone, aziende o altri enti privati in cambio di un tasso di interesse che ci viene pagato una volta che il prestito viene restituito. Per chi richiede il prestito, il vantaggio principale è quello di poter ottenere i fondi di cui ha bisogno in tempi notevolmente più brevi rispetto a quelli necessari per un tradizionale prestito presso un istituto bancario, oltre che fornendo meno garanzie rispetto a quelle richieste per un prestito tradizionale. Dal lato dell'investitore, chiaramente il guadagno sta tutto nell'interesse che gli viene pagato sui prestiti fatti, interesse che può essere pagato a rate o quando il prestito viene estinto. D'altro canto però, un prestito di questo tipo, soprattutto se è privo di garanzie da parte di chi lo richiede, rappresenta sempre un rischio per l'investitore. Per questo spesso le piattaforme di peer-to-peer lending permettono all'investitore di finanziare una minima parte di un prestito, anche fino a quote inferiori ai 5€, permettendo quindi la diversificazione dell'investimento e di conseguenza la riduzione del rischio per chi investe. Bisogna però considerare che le piattaforme che fanno da tramite tra investitore e richiedente del prestito rappresentano l'unica garanzia reale per le parti. Perciò è importante scegliere con attenzione su quali piattaforme investire per evitare perdite di denaro. Inoltre per minimizzare il rischio è sempre meglio evitare di puntare tutti i propri risparmi su una sola piattaforma. Personalmente utilizzo 4 piattaforme che hanno tutte una storia di pagamenti verificata e sono Bondora e Mintos per i prestiti personali a privati, Evenfai per i prestiti a piccole e medie imprese e Recruit per i prestiti immobiliari. Per ognuna di queste piattaforme potete trovare in descrizione maggiori informazioni e dei link invito un amico per ottenere un bonus all'iscrizione. In questo breve video ho cercato di dare le informazioni essenziali, ma se avete delle domande più specifiche scrivetemele pure nei commenti. Nel frattempo vi chiedo di lasciare un like per supportare il mio canale e se volete vedere quanto io guadagno ogni mese dal peer-to-peer lending potete dare un'occhiata ad uno dei miei video mensili sugli investimenti.